ciao a tutte ragazze bentornate sul mio canale oggi un nuovo tutorial andremo a realizzare insieme un paio di orecchini piccini piccini e sono questi sono gli orecchini gardenia come vedete adesso metto a fuoco sono piccoli ma molto luminosi le ho voluti realizzare e appunto creare un modello per chi indossa appunto orecchini non troppo grandi non troppo vistosi perché nei mercatini non so voi ma la maggior parte del dei modelli che comunque vado a vendere sono quelli poco elaborati e poco complicati e di dimensioni ridotte per cui ho voluto creare questo questo modellino proprio semplice e appunto vi mostro anche voi come appunto poterlo realizzare passiamo subito con la lista dei materiali allora sono pochini praticamente servono delle rocaille sempre della miuki in tre in tre misure 11 e scusatemi 11 15 e poi ce ne serve veramente poche di 8 0 poi le storm duo e dei bicono della preziosa da da 4 mm una monachella e ragazze un rivoli con questa volta un rivoli però da 12 mm io ve lo propongo già incastonato non è che cambia molto rispetto al video che vi ho fatto come incastonare un rivoli da 14 cambia soltanto il fatto che un rivoli da da 12 si incastona con 28 rocaille della miuki da 11 0 poi funziona esattamente come l'altra incastonatura direi che possiamo partire allora usciamo da una 11 0 dell' incastonatura centrale e infiliamo questa sequenza una rocaille 11 0 2 storm duo così in questo verso quindi le punte sopra si devono guardare comunque è questo il modo che bisogna appunto avere e un'altra 11 0 a questo punto saltiamo la rocaille 11 0 che viene dopo e ci infiliamo in quella successiva così e tiriamo il filo ok facciamo questo procedimento per tutto il tiro una volta completato tutto il giro usciamo dalla 11 0 prima della prima storm duo che troviamo insomma della prima coppia inseriamo 4 rocaille 15 0 e ci infiliamo nel foro alto della storm duo e tiriamo bene prendiamo un bicono da quattro millimetri e ragazze semplicemente ci infiliamo ecco preso già anche quella dopo ci infiliamo solo nel foro alto della storm duo accanto e tiriamo bene il filo a questo punto riprendiamo altre quattro rocaille 15 0 e ci infiliamo solo nella rocaille dopo la storm duo tiriamo bene il filo ok così ci infiliamo nella rocaille 11 0 di ba della base dell'incastonatura e ok e ci rinfiliamo nella prima rocaille 11 0 che viene prima all'altra coppia di storm ok e facciamo questo procedimento tirando bene il filo per tutto il giro ok una volta completato tutto il giro usciamo dalla dall'ultima rocaille 15 0 dove c'è appunto il foro alto della storm duo e il bicono inseriamo questa sequenza allora 2 15 0 2 11 0 e 2 15 0 e semplicemente ci infiliamo solo nelle prime due rocaille 15 0 che vengono dopo che stanno accanto alla seconda storm duo della coppia tiriamo bene il filo bene 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 ok a questo punto dobbiamo fare la stessa cosa su ogni coppia di storm duo come fare semplicemente senza infilare niente da dove esco mi infilo nelle prime due rocaille 15 0 vedete che vengono di fianco tiriamo bene in modo che tirando bene le coppie si uniscono facciamo questo procedimento appunto per tutto il giro ok una volta completato il giro prima di andare avanti rafforziamo un po tutti questi petalini di questo fiorellino che abbiamo fatto come praticamente esco in alto dalla seconda rocaille 11 0 prima della della 8 0 e come faccio sempre salto la 8 0 e mi infilo nelle rocaille successive il filo io lo faccio passare vedete da dietro tiro e si definisce così la punta del mio petalo a questo punto ripasso nelle perline sempre laterali per uscire sempre dal rocaille 11 0 prima della 8 0 e faccio la stessa cosa anche in questo caso su tutti i petalini quindi per tutta la circonferenza ok una volta fatto usciamo dalla 8 0 e iniziamo a fare il cappietto inserendo 6 rocaille 15 0 e ci infiliamo nella stessa 8 0 ma nel senso opposto a questo punto ci passo due o tre volte per fissare un po il tutto ok ragazze poi non fate altro che dopo aver fatto il cappietto scendere lateralmente nelle rocaille e dobbiamo posizionarci praticamente a dobbiamo fare aspettate che vi faccio vedere questa sorta di inserire questi bicono no vedete praticamente bicono rimangono aspettate che ok mette a fuoco è troppo luminoso però rimangono tra una devono stare ovviamente nell'incastonatura nelle file prima ovviamente delle coppie di storm duo devono stare tra una coppia di storm duo ed un'altra allora dove dobbiamo appunto aspettate che devo per forza ok forse così ok così praticamente scendete come vi ho detto dalle aspettate che vediamo prendo il lago così indico dalle rocaille laterali e ci infiliamo nella rocaille 11 0 che sarebbe la fila prima rispetto a quella dove abbiamo fatto tutta la lavorazione con le coppie di storm duo la fila prima dell'incastonatura centrale vedete io sono qua qua c'ho un'altra 11 0 dove appunto ci sono le quattro rocaille 15 dell'incastonatura centrale ok noi stiamo uscendo qua infiliamo un bicono e una 15 0 salto la 15 rientro solo nel bicono ok attenzione ecco così si vede mi infilo nella rocaille 11 0 che viene dopo dell'incastonatura in questa vediamo se si vede bene vedete sto uscendo da qui e dentro di lì comunque in quella dopo non salto nulla tiro e tirando bene il filo il bicono si posizionerà qua a questo punto passo nelle perline che ho dopo vedete voi insomma perché devo oh mamma ok devo praticamente riposizionarmi in questa rocaille qua vedete quindi praticamente sono andata soltanto nella rocaille 11 0 quella che sta dietro a dell'incastonatura centrale dell'incastonatura scusate delle rivoli quella che sta dietro alle nostre 15 comunque lo capite ragazze c'è più difficile a spiegarlo che a farlo ecco 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 e poi mi incastro ok 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 e mi sono riposizionata opla mi sono riposizionata nel punto giusto per riprendere un altro bicono e rifare la stessa cosa come vedete i bicono staranno prima e dietro ci saranno le coppie delle storm 2 quindi staranno in mezzo a queste coppie fate questo per tutto il giro una volta completato tutto il giro non ci resta farà non ci resta che scusate ce la posso fare fissare un po il filo nella lavorazione e poi tagliare quello che non serve più ecco ragazze dopodiché ho messo la monachella che mi piaceva ho inserito un altro bicono e nulla sono velocissimi sono piccolini sono molto luminosi molto vabbè questi colori non riesco neanche a farveli vedere bene li farò sicuramente appena mi arrivano altri rivoli da 12 in altre tonalità che vi mostrerò anche sui social anzi vi ricordo di iscrivervi anche al mio gruppo facebook che gestisco con le mie amiche che si chiama tra chiacchiere e perline e niente aspetto di vedere le vostre versioni e alla prossima ok ciao ciao